ora metto la pista armonica in bocca ogni volta che mi hanno spaventato dai però io sono confide del mio spot non mi interessa faccio le tasche stas fatta andiamo danny in admin concordo siamo tutti in admin non è vero se mi ritorna non è vero se ma ripianta guarda se 20 in reattore ne ammazzi 8 danny se le fatti metti davanti la porta l'occhio l'ho io mattina sei c***o sotto madonna raga scappa! dove c'è? ma io danny riesco a vedere dove è sim eh si però non potete ma hai detto però adesso l'hai detto no non lo so comunque il cinema ti obiettivi in maniera assurda vai 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 aiutare i quali 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 alzio dietro ma avevi letteralmente ho molta paura aiuto ma ragazzi mi sa che lo lo muore per un secondo cialolo si faccio così avrò le porta bene voglio fare c'è tra danny axe corvo no axe non è morto ciao corvo sei ancora fra io sto vedendo che qualcuno che continua a aprire le porte questo lo sto vedendo veramente vai 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 corri martin l'hai visto danny se fa la kill morire prima tu ah eh lo so ho finito le task allora potremmo dare un invito allora sim è passato ma non potete dirlo no 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 non diciamo niente però l'ho detto per un motivo diciamo 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 sim acqua 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 proprio ecco quale sa che qualcuno è in decontaminazione danny corri perchè posso aprire decontaminazione perchè evidentemente insomma ci vuole un po' dai sim non venire decontaminazione però sim dai si ce la puoi fare ciao fra e vince danny di nuovo ma che c***o di mera io faccio l'ultimo vai 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 ok we do the last mi faccio capire qual è la cosa che serve di qua e non la trovo per primo in basso a destra in basso a destra ti dice la bibita e tu devi azzia se non c'è in quanto non deve scappare troppo pazzo ma quindi chi è l'impostore aspettate corvo ho paura di stare da solo e vieni da noi siamo qua tutti qua ma devi stare in gi siamo tutti qua nella parte dei tavoli ragazzi e siamo sim siamo io croatomist electro sim poi ragazzi in caffetteria si sta molto bene devo dire dai no non mi chiederebbe mai danny te ne vai via da caffetteria danny via da caffetteria perchè? stiamo facendo il caffè no danny via dalla caffetteria porca miseria dai danny vieni qua vediamo se c'è qualcuno io prendo il rischio perchè a me perchè a me hai sei la baffa danny non la puoi chiamare ad emergency via da lì ma infatti non la chiamate quindi sei in caffetteria danny quindi sei in caffetteria danny danny è in caffetteria valla accettare oh ca cosa volevi fare best man scusami io che lo volevo seguire seguiamo l'electro vai seguire o fare qualcos'altro martiii 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 chieli se la vedo che avrai molto futuro e invece ohhhhhh grande danny eh martiii lo so che siamo andando sotto la morte infatti torni indietro vai si non ti lascia vivere per adesso io sto cercando chi è che morirà dei due come te ti stavo seguendo martii zitti no mi viene da piangere PORCAAA sei morta? no ancora viva no no corvola devi andare va bene va bene vai la lingua da sicilia sardegna vai bravo complimenti è morta bravo bravo vabbè ragazzi facciamo le tasche io le ho finito va bene guarda fate le tasche fate le tasche io voglio fare l'asteroide ma col cavolo ce le faccio io non ce le ho neanche qui io non ce le ho neanche qui corvo dove c'è che non ti vedo eh bella domanda allora corvo in questo momento sta per andare ad uccidere qualcuno molto vicino corvo dovresti essere un corvo dovresti trovare subito le tue prede scusami cerco solo i morti io ragazzi nel livello di un po' cioè dai su vai un po' di qua è bravo guardate fuoco fuoco è proprio un cugano e qualcuno morirà si morirà se è la sicura e dice si ma ragazzi ma che vento su riguardo danni non è dai però si si ragazzi ragazzi emergency vediamo lollo noi stai scherzando facciamati i miei fili blu rosso viola yellow perfetto a me invece sarà un po questa possa qua perché rischiosa e bel rischio te la proviamo faccio la task va bene va bene perfetta fatta sì ho fatto veramente mi dava fastidio vedere quella cosa gialla oddio come me ne sono andato fra hai paura non trovo nessuno fra vogliamo bottalare sentiamo dai ma fammi finire le task ma non devi farmi nascondire le task danny per favore sim per favore l'ho le lollo a seti devi levare me lo porto davanti a se vai 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 ma letto sempre a terra ma come possibile siamo nel cilin qui al cilin i dati no no tranquilli il reattore è buono ma questa parte no ma non c'era sempre luce c'era che siete se lo sa ma ti devi levare dalle palle e la prima regola ma che è morta ragazzi è un pochino 200 e più vai vai ma come c'è a vedermi che io ero fuori in un pochino sono troppo forte ho paura si lo conosci molto bene tu e non chiamate la cronima chi è chi è l'impastore sim, hai tu il cronometro I prosaggin the line ma tanto stiamo qua tutta l'alice Ah, ma siete seri? Vai, sharta, sharta Posso andare? Eh, no, no, vai Uccidi Dani, non me Uccidi Dani, non me Dai, Alex, sono più di p***e, però No, però Ma tu devi camminare a ammazzare il primo Ragazzi, chiamate l'emergency Vai, 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 vai Vai, Dani Dai Electro out Electro out Si è messo proprio lì a cercare me Che infame, oh Che infame, maletico Bambino ridicolo Ma bello un c***o Non avevi le ali, pensavo di sì Sono stato due secondi fermo lì A cercare partire Lo so, b***a Fai veramente c***o Madonna mia